Buongiorno a tutti Ci troviamo come tutti quanti sappiamo all'interno del ciclo di Catechesi sulla Divina Volontà dove siamo giunti la volta scorsa a cominciare a parlare in maniera un pochino dettagliata di alcune caratteristiche, chiamiamole un po' tecniche, quindi di atti nella Divina Volontà che sono chiaramente da porre per la nostra santificazione e soprattutto per unire la nostra umanità alla Divinità cioè riappropriarci del dono che il Signore aveva fatto ad Adamo ed Eva e che ha rifatto alla Divina Maria e della Divina Volontà quindi di compiere degli atti non semplicemente umani, abbiamo visto la volta scorsa, ma atti divini quindi atti che pur compiuti dall'uomo, vengono dall'uomo stesso, appunto con un atto volontario uniti, fusi con la Divina Volontà di cui vengono ad acquisire le caratteristiche compiere atti di questo genere significa far ridondare, assoluto su se stessi ma anche sugli altri, le caratteristiche tipiche della Divinità e quindi degli atti divini in senso stretto l'abbiamo accennato la volta scorsa e la differenza appunto, mi sono molto soffermato, che c'è tra un atto umano e un atto divino c'è un abisso incommensurabile, perché un atto divino, cioè unito a un divinvolere al divinvolere, scusate, ha le caratteristiche fondamentalmente sono tre di un atto che è infinito, eterno ed immenso e che produce come effetti una partecipazione al Gaudio infinito che è Dio, ecco perché la vita nella Divina Volontà è vita divina è vita di felicità, adesso possiamo, vedremo adesso magari, forse oggi è il caso di rileggere qualche cosa per vedere come erano gli atti fatti da Adamo, prima del peccato originale ci sono diversi scritti insomma che parlano di questo e quindi produce questa felicità immensa anzitutto nella persona direttamente interessata e ridonda a estremo beneficio dell'umanità intera quindi è davvero un mondo, una risorsa, una possibilità, una potenzialità straordinaria quella che ci apre questo mondo la volta scorsa abbiamo letto un brano dove Gesù spiega la differenza che c'è tra l'atto preventivo e l'atto attuale abbiamo visto che l'atto preventivo non è altro che quello con cui noi la mattina appena svegliato prevedendo quindi tutti quanti gli atti che compiremo chiamiamo la Divina Volontà ad unirsi a tutto ciò che faremo quindi sia gli atti volontari in senso stretto sia gli atti inconsci e involontari abbiamo visto che questo si estende al battito cardiaco al battito delle ciglia al camminare alla circolazione del sangue quindi come tutta la nostra vita in quanto buona se volontaria abbiamo visto come è impossibile unire la Divina Volontà per questo che non se ne potete neanche parlare come dire un atto cattivo è ovvio che tutti quanti i nostri atti sono ordinariamente imperfetti ma un atto imperfetto è suscettibile di essere unito alla Divina Volontà perché altrimenti sarebbe impossibile procedere in questo senso però non un atto cattivo e concludevo spiegando perdonate se faccio sempre un po' di riassunto delle puntate precedenti ma penso che sia importante come sotto questo punto di vista c'è una propedeuticità a mio avviso questa è una cosa mia personale che io sappia concludevo a mia conoscenza Gesù esplicitamente non mi sembra per il giro di conoscenza che ho fino ad adesso degli iscritti che affermi questa cosa in termini chiari ma personalmente considerando anche un pochettino anche la storia cioè le rivelazioni della Divina Volontà avvengono nel XX secolo cioè gli iscritti dei primi volumi sono databili intorno al 1898-1899 e terminano verso la fine degli anni 30 mentre due secoli prima anzi quasi tre secoli prima perché San Luigi è morto nel 1716 e era vissuto San Luigi Maria Bonfort spiegando il senso della consacrazione totus tuus ecco facendo forse un piccolo cambio di programma io mi ripromettevo avevo chiuso così la volta scorsa di approfondire questo punto perché c'è a mio avviso una propedeuticità della consacrazione totus tuus in relazione alla vita nella Divina Volontà sotto due punti di vista primo la consacrazione totus tuus presuppone una scelta chiara determinata precisa responsabile costante perseverante nella santità cioè una persona non ha senso che si faccia schiavo di Maria quindi schiavo di Maria vuol dire che io obbedirò a tutto quello che la Madonna vuole e manifesta sia in pubblico attraverso le apparizioni soprattutto quelle riconosciute dalla Chiesa sia in privato capito quindi cioè la consacrazione totus tuus non è come attenzione a quello che dico come quello che la Madonna chiesta a Fatima consacratevi tutti al mio cuore immacolato perché il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio sicuro e la via che vi condurrà a Dio cioè la consacrazione che la Madonna ha chiesto a Fatima è un atto con cui le persone consapevoli di andare incontro a un momento storico delicato a una fase in cui si assista allo scatenarsi del male del demonio il famoso secondo segreto di Fatima che tutti conoscono il terzo che se non mi obbediscono succederanno questo 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 guerre rivoluzioni persecuzioni contro la Chiesa contro il Santo Padre eccetera eccetera si dovrà soffrire molto ma alla fine il mio cuore immacolato trionferà quindi dentro un contesto però abbiamo visto insomma che io sono sono reduce da un pellechinaggio a San Giovanni Rotondo e a Pietrelcina abbiamo riletto come San Pio stesso diceva concordemente con alcuni suoi contemporanei secolo più brutto del ventesimo non se ne è visto fino ad oggi quindi non era insomma non era un modo perché noi stiamo sempre a piangere che pensiamo che altre epoche siano migliori no questo è purtroppo un dato abbastanza oggettivo ecco quindi però la consegrazione totus tuus non è mettersi sotto la salvaguardia della Madonna cioè io chiedo alla Madonna che mi protegga e che mi aiuti è chiaro che nella consegrazione totus tuus c'è anche questo cioè c'è un atto di umiltà dell'anima con cui riconoscendosi bisognosa dell'aiuto della Madonna e quindi affermando la sua perfetta santità e anche la sua universale maternità che si spende fino in fondo per la salvezza dei suoi figli quindi si rivolge a lei come richiesta di aiuto d'accordo quindi come atto di culto come mettersi sotto la sua custodia sotto il suo manto sotto la sua protezione un'invocazione di richiesta e di aiuto per combattere contro i demoni per essere liberati da eventuali errori idee sbagliate eresie sbagli che si commettono anche senza saperlo e tutte quante cose che la Madonna fa però è una consegrazione appunto totus tuus cioè io rinuncio alla mia vita rinuncio alla mia libertà rinuncio al disporre il mio tempo come mi pare perché i tuoi interessi diventano i miei interessi capite e la Madonna e quindi per questo io raccomando sempre dico non si può fare una consagrazione di questo genere se non si ha una buona formazione mariana cioè quindi mariana significa proprio aver letto capito cioè la mistica città di Dio di Maria da Greta che mostra in maniera formidabile divina come viveva la Madonna uno deve leggere prima di fare questa cosa qui e le glorie di Maria di Sant'Alfonso uno le deve leggere quello splendido libro edito da casa mariana dove stanno le nostre carissime suore che è il libro di Severino Ragazzini Maria vita dell'anima quello bisogna leggerlo quello lì assolutamente conoscere il contenuto delle principali apparizioni mariani ho scritto non voglio fare pubblicità ho scritto un libretto piccolino che è stato edito quindi si trova anche nelle librerie oltre che online è disponibile come tutto il mio materiale in modo completamente gratuito in formato elettronico che è l'apparizione di Maria che racconta le principali apparizioni principali non tutte le apparizioni le più famose mariane degli ultimi tempi riconosciute dalla Chiesa quelle bisogna conoscerle capite e se la Madonna Fatima dice guardate che ho bisogno di gente che faccia molta preghiera e molta penitenza perché la gente va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro è chiaro che un consagrato Dottor Stus deve stare in prima linea cioè se non gli va di dire un rosario in più o di fare qualche penitenza è liberissimo di non farle d'accordo ma se fa la consagrazione Dottor Stus io dico sempre ma scusami un attimo ma se la Madonna non può contare su chi gli ha detto io voglio essere tuo schiavo ma a chi le chiede queste cose su chi conta quindi questo perché in questo senso la consagrazione Dottor Stus è propedeutica alla vita della Divina Volontà perché è chiaro che la vita nella Divina Volontà è vita non solo di santità dice Gesù ma della forma più alta e più sublime di santità che esista cioè i santi che vivranno il dono della Divina Volontà dice Gesù adesso non ho tra le mani la citazione originale ma non me lo ricordo insomma negli scritti avranno una santità superiore a quella di tutti i lati gli altri santi messi insieme portentosa strepitosa ma sarà una santità vera d'accordo cioè quindi saranno come capite cioè tu dici i santi nella Divina Volontà supereranno Padre Pio guardate come dire bisogna vedere chi riuscirà ad esserlo ma San Luigi Monforte usavo questa espressione nei suoi scritti lo dico arditamente ma dico il vero a quello che Gesù rivela a Luisa bisogna prudentemente ragionevolmente pensare di sì perché saranno dei giganti è chiaro che per superare Padre Pio tu a livello di Padre Pio ci devi essere arrivato non perché c'hai le stigmate d'accordo questa è una cosa che non è indispensabile ma perché c'hai un desiderio di dare gloria a Dio di salvare le anime che ha consumato la vita di questo grande santo tu chi sei chi sono io io sono fuoco che brucia ardore che brucia per le anime cioè tutta quanta la vita di immolazione che Padre Pio ha vissuto è stata una vita dedita e consumata in questo modo perché cosa per salvare le anime e come si salvano le anime apprezzo dei sacrifici sofferenze che lui hanno assunto anche la forma straordinaria e molto dolorosa delle stigmate portate in maniera anche visibile per 50 anni passati tra l'altro i 5 anni di stigmati invisibili ok quindi non c'è vita nella divina volontà se non c'è una risoluzione ferma di camminare verso la santità non c'è perché Ec Voluntas Dei si scrive San Pietro nelle sue lettere Ec Voluntas Dei Santificatio Vestra questa è la volontà di Dio la vostra santificazione quindi la santità strepitosa del regno del divino volere è prima di essere strepitosa è santità non so se che quindi cioè la scelta della santità deve essere fatta è presupposta e non è una scelta da fare a cuore leggero perché se io scelgo di diventare santo santo non è semplicemente un bravo cristiano non è semplicemente un bravo fedele non è semplicemente cercare di praticare qualche virtù rimanere nell'ambito del lecito bar camminare in una vita comune e no figliori miei cari santo vuol dire tensione verso l'esercizio eroico delle virtù non ordinario santo significa tensione alla perfezione significa raccogliere il grido di Gesù l'invito di Gesù al termine del discorso della montagna siate perfetti come è perfetto il padre vostro celeste voi sapete che usando una terminologia cara a santa madre chiesa la santità non è obbligata non è obbligatoria sotto pena di precetto cioè chi non diventa santo va all'inferno no chi non diventa santo va a purgatorio se scegliere di essere almeno un buon cristiano d'accordo sotto precetto sono comandati dieci comandamenti e certo chi non osserve dieci comandamenti diceva chiaramente santa Teresa Davide in paradiso non ci va ecco questo bisogna mettere ben in testa ma essere santi non è osservare dieci comandamenti essere santi vivere le beatitudini ed è ripeto vivere e praticare tutte le virtù in grado eroico nella consegnazione totus tuus il modello supremo di virtù che si cerca di imitare è la Madonna perché la consegnazione totus tuus comporta l'imitazione della vita di Maria e anche l'obbedienza a Maria d'accordo io ho detto tantissime volte no ma non voglio adesso parlare di me stesso insomma cioè ma questa è una cosa assolutamente conseguenziale cioè il motivo per cui io porto la veste talare l'ho detto altre volte non voglio adesso non vorrei che la Madonna che sto sempre parlare di me però è per far capire cioè quando io andai per la prima volta a Civitavecchia usci fuori insomma che tra i messaggi diciamo la Madonna oltre che allacrimare dei messaggi la sintesi di Civitavecchia era che il demonio sta sferrando un attacco mortale alla chiesa attaccando i suoi due polmoni vitali che sono che ciò di cui la chiesa è fatta cioè il sacerdozio e la famiglia capite il mio vecchio vescovo il caro Monsignor Petrocchi diceva sentite un po' ma se nel mondo venisse sterminata la chiesa d'accordo perché la chiesa possa sopravvivere che cosa dovrebbe rimanere in vita da tutti quanti gli esseri umani vi dico subito tre persone ci vuole un uomo una donna quindi che possono fare una famiglia e chi un prete non prete non basta ci vuole un vescovo ci vuole perché un vescovo perché un prete non può ordinare altri preti quindi quando muore se ne va ci vuole un vescovo che se quella bella famiglia fa un po' di bambini qualcuno le prende gli ordina prete e arriva avanti la chiesa però capite che cioè i religiosi e le religiose che fanno parte la vita religiosa dice la chiesa fa parte dell'essenza della chiesa ma non della sua struttura se ci sono è meglio d'accordo ma in teoria potrebbero anche non esserci come per esempio nei primissimi tempi della vita della chiesa non c'erano delle forme strutturate di vita consagrata ma c'era la chiesa d'accordo quindi se tu attacchi sacerdozi e famiglia la chiesa la distruggi d'accordo non ci riuscirà chiaramente a distruggere ci sta tentando però il demonio abbiamo visto come stiamo ridotti no cioè che 40.000 sacerdoti negli anni 70 abbiano lasciato il ministero è un dato di fatto insomma che Bruno Cornacchiola vide la talare spezzata nel 1947 durante le apparizioni a Etre Fontana è un dato di fatto d'accordo che la famiglia si è distrutta è un dato di fatto che i divorzi siano di Laghino che le convivenze di Laghino di un matrimonio di un comune di Laghino in Nord Italia ormai hanno da tempo superato le unioni civili i matrimoni celebrati in chiesa è un dato di fatto purtroppo allora non si poteva sapere tante cose dico senti almeno una cosa sui preti me la devi dire e Gregori mi disse guardi padre alla Madonna se le posso dire non piace per niente come vanno in giro questi di preti oggi io quel giorno accompagnando pellegrinaggio non la mettevo tutti i giorni ma casualmente c'avevo addosso la veste talare fece un po' una battuta un po' impertinente un po' sempre a mettere in mezzo io che sono fatto così quindi gli dici dico beh spero che quello che io porto addosso oggi alla Madonna le piaccia e lui mi fece un sorriso tra le tue denti dice guardi padre allora se lei è così esplicito io le devo dire che non c'è niente che piace tanto alla Madonna quanto quello che lei porta addosso oggi correva l'anno 2008 io ho fatto la mia consagrazione totus tus nel 1998 indegnamente è chiaro e quando io ho sentito questa informazione dico bene io oggi ho saputo io ci credo a queste apparizioni qui che il vestito più gradito alla Madonna è la veste talare consacrato totus tus ma che cosa dovrei fare non cioè se uno è consacrato totus tus e sa questa informazione non è che c'è scelta capito mi metto la veste talare d'inverno d'estate d'autunno d'primavera fa freddo fa caldo è comoda è scomoda mi metto la veste talare punto quindi non c'è nessun lefevrianesimo nessun tradizionalismo nessun niente ho saputo che la Madonna è l'indumento più grande della Madonna siccome dicono una signorina che fa la consacrazione totus tu sa ma io padre vorrei andare in giro in pantaloni adesso qui mi immagino già che ascolterà sta catechesi comincia a sobbazzare dalla sedia se i pantaloni fossero come dire decenti i pantaloni indecenti per una donna che voglia fare vita devota bisogna sempre farci un pochettino ma alla Madonna i pantaloni non piacciono l'ha detto anche in più di qualche apparizione in un'ultima apparizione di Tapiranga ha detto che non le piacciono la Madonna non si rimetterebbe i pantaloni e quindi questo è un esempio sciocco cioè queste sono cose esteriori non sono le cose più difficili le cose più difficili sono quelle interiori ma per far capire ma se hai fatto la consegrazione totus tuus e la Madonna esprime questa cosa tu devi vivere di conseguenza figli sennò che che te totus tuus non sei totus tuus cioè se tu vuoi vuoi rimanere tuo quindi non totus tuus ma io ho la mia libertà ho la mia vita e nell'ambito dell'ecito voglio fare le mie scelte per carità io non mi metto i pantaloni aderenti o i leggings però se un giorno voglio stare un pochino più comodo mi metto un panna con una pantalona una cosa non so le donne cosa hanno in giro perché la cosa fondamentale è che non non ci sia niente di provocante dinanzi a chiacchi ti guarda quindi questa è una facoltà che tu ce l'hai naturalmente parlando ma facendo la consegrazione totus tuus tu rinunci a questa facoltà se no che totus tuus perché uno schiavo non è che può dire ah il padrone mi ha detto questa cosa a me non mi sta bene e non la faccio non è uno schiavo siccome questa schiavitù d'amore non è che poi la madonna sta con il mitra a controllare se tu fai quello che hai detto oppure no ma è evidente che se tu non lo fai stai mancando la tua consagrazione chiaro questo è abbastanza evidente questo qui ecco perché non si fa a cuor leggero quindi la propedeuticità sta primo sul fatto che una consagrazione totus tuus deve essere vissuta come forma privilegiata perché a questo serve San Luigi di Maria Conforte nel segreto di Maria dice vuoi diventare santo lo vuoi un segreto per fare questa cosa presto rapidamente e senza troppi intoppi te lo insegno io il segreto è Maria e poi comincia il segreto di Maria comincia in questo modo forte diretto quasi brutale sta attento però che se poi questo segreto non lo userai bene da benedizione si trasformerà nella tua condanna questo questo scrive San Luigi nel segreto di Maria io la prima cosa che conobbi sua fu il segreto di Maria e quando vidi queste parole così out out così terroristiche mi sembravano dico via lascio aperto tutto quanto perché mi sembra insomma una cosa un po' troppo esagerata questo è il mio primo contatto con gli iscritti mariani insomma sempre sempre in questo modo comunque ma l'altra cosa e qui è quella parte del trattato che non capisce quasi nessuno è fondamentalissima e sarebbe qui da leggerlo e non è escluso che adesso le legga qualcosa è quella parte del trattato perché la vita la vita mariana la vita totus tuus comporta una serie di pratiche interiori tra cui imparare a fare tutte quante le cose per mezzo di Maria oltre che con Maria significa imitare le sue virtù per Maria significa offrirle tutte le nostre azioni in Maria è una forma come dire è un esercizio che in maniera ordinaria può essere vissuto soltanto entro certi limiti perché vivere in Maria è più che altro un dono straordinario che il Signore concede a chi procede bene nella vita mariana e vivere per mezzo di Maria che significa San Luigi dice che bisogna imparare a fare tutte le cose unendosi alle sue intenzioni perché ecco la propedeuticità a mio modestissimo avviso il secondo aspetto della consagrazione totus tuus rispetto alla vita nella divina volontà San Luigi a un certo punto fa tutta quanta una lexio magistralis dove spiega che gli uomini anche i più bravi anche i più santi proprio in quanto uomini cioè segnati dalla colpa d'origine quindi imperfetti e compiono regolarmente azioni imperfette capite imperfette cosa significa che sono segnate ordinariamente da tantissime misericordia miserie cioè noi per quanto ci sforziamo per quanto tu puoi essere attento per quanto tu puoi mettercela tutta per quanti atti ascetici tu puoi fare e tu sempre e comunque farai 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 degli atti imperfetti cioè caratterizzati da tante miserie da tante imperfezioni da tante macchie che se non ci mette le mani in maniera straordinaria il Padre Eterno non è possibile evitare non si può e quindi è indispensabile che le tue azioni per quanto buone e sante siano prese e unite alle intenzioni di Maria altrimenti Dio si girerà dall'altra parte perché non non degne di lui e questa è una cosa strutturale adesso io volevo leggervi un brano un passaggio del trattato della della vera devozione dove questo San Luigi lo spiega allora seguitemi bene perché questo a mio avviso allora la volta scorsa abbiamo parlato dell'atto preventivo dell'atto attuale cioè un aspetto della vita nella divina volontà consiste nell'imparare a portare in via preventiva e moltiplicando anche gli atti in maniera attuale quindi prima di questa catechesi è bene che io dica viene divina volontà nel mio predicare d'accordo per esempio prima di lavarmi posso dire viene divina volontà nel mio lavarmi prima di vestirmi posso dire viene divina volontà nel mio vestirmi prima di mangiare posso dire viene divina volontà nel mio mangiare prima di celebrare la messa posso dire viene divina volontà nel mio celebrare la messa questo è un esempio di una serie di atti attuali d'accordo certamente non posso prima di dire una parolaccia viene divina volontà nel mio imprecare questa sarebbe una bestemmia questa qui però anche tutte quante queste cose buone o indifferenti che ho fatto per esempio viene divina volontà nel mio imprecare sono atti di un uomo che in quanto tali sono sempre bruttarelli e adesso vedremo perché questa è la condizione purtroppo ontologica che ci lascia la colpa d'origine allora leggo dal trattato della vera devozione per chi ce l'ha il paragrafo 78 che cosa dice le nostre migliori azioni sono di solito macchiate e corrotte dal cattivo fondo che è in noi ci si può fare niente a questa cosa qui è impossibile quando si mette dell'acqua limpida o pulita in un vaso che sa di cattivo o del vino in una botte che è stata guastata da altro vino l'acqua pulita e il vino buono vengono guastati e facilmente prendono un cattivo odore allo stesso modo quando Dio mette le sue grazie e il vino delizioso del suo amore nel vaso della nostra anima attenzione guastata dal peccato originale e attenzione dal peccato attuale adesso vedremo questi doni vengono di solito guastati e rovinati dal cattivo lievito e dal cattivo fondo che il peccato lasciava dentro di noi le nostre azioni anche quelle che riguardano le virtù più sublimi attenzione ne risentono è dunque molto importante per raggiungere la perfezione che si ottiene soltanto con l'unione a Gesù Cristo dice San Luigi noi possiamo parafrasare per raggiungere quella grande perfezione che si unisce con l'unione alla divina volontà parafrasiamo saperci svuotare di ciò che vi è cattivo dentro di noi altrimenti il Signore che è infinitamente puro e che non tollera per nulla la più piccola macchia dell'anima ci rigetterà da sé e non si unirà a noi chiaro? questo è strutturale non ci si può fare niente allora perché il peccato originale noi sappiamo benissimo il battesimo cosa fa? questo è dogmatica questa qui non è che noi riceviamo il sacramento del battesimo e non è che il peccato originale diventa un brutto ricordo no il battesimo toglie il peccato originale in quanto inerente a te come proprio anche se tu non l'hai commesso cioè attenzione noi nasciamo con il peccato originale come se l'avessimo fatto noi anche se non l'abbiamo fatto noi capite? si dice in teologia peccato trasmesso ma non commesso e questa qui è una cosa che impedisce completamente all'anima la possibilità e l'accesso alla visione beatifica noi non siamo in grado non stiamo in grazia di Dio non stiamo in amicizia con Dio per questa cosa qui ecco perché i bambini vanno battezzati non quando ora che prendono moglie ma il più presto possibile il luminoso catechismo di San Pio X diceva e io dico con lui entro dieci giorni sono stato da poco a Pietrelcina a Pietrelcina e ai tempi di Padre Pio quasi tutti cercavano di battezzare i figli entro le 24 ore di vita 24 ore no 24 mesi ecco capite? e questo è un altro segno di come la nostra fede si è ridotta malamente oggi ma tolto il peccato originale quindi ti ho tolto il peccato originale ti viene infusa la grazia santificante vieni a far parte della chiesa questi sono gli effetti del peccato originale e del battesimo e puoi ricevere tutti quanti gli altri sacramenti diventi figlio di Dio ma attenzione le conseguenze del peccato originale rimangono perché un battezzato muore d'accordo? non è che va direttamente in paradiso assunto e non passa per la morte come una Madonna un battezzato muore un battezzato può soffrire è soggetto alle sofferenze è soggetto alle malattie e un battezzato è soprattutto soggetto alla concupiscenza che appena avrà l'uso della ragione comincerà a sentire le passioni che sono impazzite comincerà a vivere l'esperienza drammatica che tutti viviamo che siamo naturalmente più inclinati al male che al bene che a volte vogliamo fare il bene facciamo il contrario che abbiamo alcune passioni che non riusciamo a dovinare che ci arrabbiamo facilmente che ci prende l'impero della lussuria tutte queste cose attenzione attenzione la stessa cosa vale per i peccati attuali ma perché non bisogna farli perché il sacerdote quando noi ci andiamo a confessare ti dice per penitenza fai questo forse perché quella penitenza ti compra il perdono di Dio cioè Dio non ti ha veramente perdonato ma per finirti di perdonare vuole che tu faccia la penitenza che tu la sconti no no Dio tra Dio la causa del perdono di Dio non è la penitenza è il pentimento è un'altra cosa cioè il dolore del cuore per quello che si è fatto unito al proposito di non farlo più questo ottiene la remissione della colpa ma i peccati che hai fatto tu hanno prodotto del male in te e intorno a te e quel male te lo tieni oppure lo distruggi o lo limiti come? con la penitenza perché la sola remissione della colpa non toglie gli effetti negativi del male che hai commesso così come il peccato originale e il battesimo non toglie le conseguenze del peccato originale ma solo il peccato e la confessione non toglie le conseguenze dei peccati che hai fatto ma cancela soltanto la colpa e ti rimette in grazia di Dio più peccati hai fatto e più il tuo fondo sarà negativo e più la difficoltà da diventare santo sarà grande capito? perché tu hai incontrato tante cattive abitudini hai scatenato tanto male e rimetterti sulla via della santità sarà molto più difficile a meno che non ci sia una grande forza interiore una grande risoluzione della volontà e una grande grazia di Dio che bisogna andare a prendere a piene mani quindi con una frequentazione assidua fervorosa devota dei sacramenti è un impegno molto grande nella regiera allora San Luigi prosegue per vuotarci di noi stessi bisogna anzitutto conoscere guardate i punti di contatto le conoscenze della divina volontà anche qui ci sono delle cose che bisogna conoscere bisogna conoscere con la luce dello spirito santo il nostro cattivo fondo l'incapacità nostra di operare il bene utile alla salvezza la famosa grande umiltà che è indispensabile per vivere la divina volontà la nostra debolezza è in ogni cosa noi siamo deboli io, io, io l'incostanza continua l'indegnità, la grazia e la malvagità presento ovunque adesso qui poi San Luigi vedete che bella litania che fa voglio vedere se qualcuno che ascolta dice no, no, questa non è roba per me io non sono così no, no, questa è roba per chiunque stia ascoltando questa roba questa è roba per tutti quella che dice Dio e il mondo si divide in quegli sciagurati che negano che sia così e in quelle anime che illuminate dalla grazia e che cominciano a avere un pochino di umiltà riconoscono che è così e prendono i dovuti provvedimenti e le dovute cautele e precauzioni e rimedi soprattutto allora il peccato del primo padre cioè tutti quasi completamente guastati guastati inaciditi gonfiati e corrotti ripeto guastati inaciditi gonfiati e corrotti come il lievito inacidisce gonfi e corrompe la pasta dove è stato messo i peccati attuali da noi commessi mortali o veniali San Luigi fai con la dottrina della chiesa che prima vi ho sintetizzato anche se sono stati perdonati cosa hanno fatto hanno aumentato la nostra concupiscenza la nostra debolezza la nostra incostanza e la nostra corruzione lasciando dei rifiuti nella nostra anima capito quindi non si può dire ah io te la faccio peccato che tanto poi mi confesso no no non te la sfanghi così bene così tranquilla con la confessioncina e con due ave maria non è così toglitelo proprio dalla testa capito non è così i nostri corpi sono talmente corrotti da essere chiamati dallo spirito santo attraverso san paolo apostolo per chi non conosce la saga scrittura corpi di peccato concepiti nel peccato salmo 50 nel peccato mi ha concepito mia madre nutriti nel peccato ahimè e capaci di tutto i nostri grandi corpi di cui oggi tanto ci si vanta che sta tutto contattivamente a fare le fitness le cose le diete tutte queste cose gli estetisti le gruggie estetiche i peli le orecchiette come si chiamano i lifting le labbra gli smalti le cose gli impicci le cerette tutte queste cose tutte queste cose qua tutto questo grande roba corpi soggetti a mille e mille malattie che si corrompono ogni giorno di più il santo corrompono d'arzi si chiama proprio il cadavere ambulante d'accordo ecco capaci di generare solo scabbia parassiti e corruzione capito? i nostri corpi sono così cibo per i vermi d'accordo ecco cadaveri ambulanti che ogni giorno in più si vanno disfacendo i capelli calano la panza aumenta le rughe aumentano e tutte queste cose qua la voglia fa ogni tanto ci sono delle persone quelli che hanno un sacco di soldi che sono ridicoli che a 80-85 anni vanno a fare i restauri che sembrano pezzi da museo che si vede che sono proprio artefatti cioè uno è molto più ridicolo così che non andando in giro con i capelli bianchi o qualche ruga con qualche pezzo di carne che te pende insomma che sei proprio ridicolo a mio avviso la nostra anima poi unita al corpo è diventata così carnale da essere chiamata carne cita un passo della saga scrittura ogni carne aveva pervertito la sua condutta sulla terra abbiamo in eredità solo attenzione adesso comincia la litania orgoglio e guai a chi pensa di non essere orgoglioso orgoglio accecamento dello spirito cioè non capisci niente cioè non sei proprio in grado di fare discernimento di connettere capito zero durezza del cuore durezza del cuore nel senso che il signore cerca ogni tanto di mandarti attraverso qualche predica attraverso qualche libro attraverso qualcosa qualche richiamo tu no niente io non ho fatto niente non ho bisogno di niente di nessuno c'ho ragione io ascia perde poi debolezza e incostanza nell'anima siamo deboli gli uomini sono deboli diceva re Herron nel mitico film il signore degli anelli gli uomini gli uomini sono deboli non sono tutto questo questo gran che incostanza dell'anima detesto gli animi incostanti dice il salmo 119 con l'incostanza nella vita interiore non si va da nessuna parte proprio da nessuna parte perché che tu oggi fai un ex plua e fai quattro rosari e che poi per dieci giorni non ne fai neanche uno questo signore non sa che farcene non serve a niente una cosa del genere è meglio che ne fai uno tutti i giorni cominci così poi ne fai due tutti i giorni poi ne fai tre tutti i giorni poi ne fai quattro tutti i giorni e ogni traguardo raggiunto ci metti una bella bandiera una bella metà da lì non si torna indietro quindi arrivata a quattro perché tutta la vita starò a quattro cioè andrò a cinque ma non a tre questa è la vita interiore solida quindi costanza dell'anima poi continua concupiscenza concupiscenza passioni in subbuglio e malattie del corpo questa è la descrizione dell'essere umano degradato dell'essere umano che ha fatto il peccato di genere dell'essere umano che ha smarrito il dono della divina volontà direbbe Gesù a Luisa un mostro guardate che Gesù in alcuni passi degli scritti di Luisa dice un essere deforme cioè io mi giro dall'altra parte per quanto è diventato brutto chiaramente in se stesso è chiaro che poi Gesù ama la persona ama l'anima ma la realtà prodotta dal peccato originale attuale agli occhi di Dio è orribile è deforme è mostruosa d'accordo e tutti quanti gli uomini che vediamo in giro che sono antipagli lo sono perché sono ridotti in questo modo sono dal peccato che è l'unico problema dell'uomo l'unico non ce ne sono altri continua la litania San Luigi siamo per condizione di natura più orgogliosi dei pavoni e chi non lo è alzi la mano e poi si vada a confessare la bugia che ha detto più attaccati alla terra dei rospi a me mi piacciono tantissimo queste espressioni tu sei un rospo capito chi sta ascoltando queste cose da oggi deve pensare oggi ho saputo di essere un rospo se qualcuno non incontra in giro un rospo se lo guarda bene io ti ricordo c'era a Borgo San Michele quando stavo lì c'era tutta questa campagna certe sere tornando avevo certi rospi per strada grossi così ma guardali dico ecco di qua guardati bene quello è lo specchio tuo tu sei così non lo dicevo da solo più attaccati alla terra dei rospi più brutti dei capri hai capito oggi hai scoperto che sei brutto quanto la fame d'accordo più brutti dei capri più invidiosi dei serpenti invidia peccato che quasi tutti commettono a quasi nessuno confessa invidiosi poi più ingordi dei porci ah Leonardo stiamo diventando un po' offensivi io non ho fatto niente sto leggendo trattato della vera devozione quindi si vada sulla tomba di San Luigi Maria Confort a San Laurent sull'Evro in Francia e si facciano le dimostranze a San Luigi io sto leggendo d'accordo più ingordi dei porci più collerici delle tigri ercollera dicono a Roma capito più collerici delle tigri più pigri delle tartarughe più deboli delle canne e più incostanti delle banderuole va bene questo è il nostro identikit d'accordo quindi uno guarda qui cioè se noi fossimo come San Francesco mano a mano che ascoltiamo queste cose si vero 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 questo è anche altro che ce ne fosse perché è una verità noi siamo così non abbiamo dentro di noi che nulla è il peccato San Luigi si era letto il trattato della providenza della providenza e Santa Caterina da Siena perché questa espressione si trova proprio coniata nel dialogo della providenza e Santa Caterina da Siena noi siamo nulla più il peccato e non meritiamo altro che l'ira di Dio e l'inferno eterno altro che vado subito in paradiso e non mi faccio manco il purgatorio di per se stessi noi da noi stessi dobbiamo andare tutti all'inferno io prima di tutti gli altri se vi interessa saperlo e non meritiamo nient'altro che l'ira di Dio è che Dio guardando i servizi avvolti dall'altra parte ecco altro che presunti buoni o cose di questo genere ecco ma dove questa realtà è una realtà usando una parolaccia ontologica cioè che riguarda l'essere dell'uomo dopo la colpa d'origine tutti nessuno escluso c'è soltanto un'eccezione l'unica persona che non potrebbe leggere questa parte qui del trattato è la protagonista del libro cioè la madonna lei queste cose non ce l'ha ma solo lei non ce l'ha il resto chiunque legge legge bene dopo ciò dobbiamo meravigliarci se il signore ha detto a colui che lo voleva seguire di rinunciare a se stesso e di odiare la propria anima non la propria anima chiaramente in quanto creata da Dio che Dio è innamorato della nostra anima d'accordo ma l'anima ridotta in questo modo dalle passioni non è la stessa cosa che dice Luisa e che dice Gesù quando dice che dobbiamo odiare la nostra propria volontà e che la volontà questa è ecco questo è resoconto dell'umana volontà eccolo là tutto quello che abbiamo letto prima uguale frutti della volontà umana eccoli là e li posso rileggere ma abbastanza no? quindi dobbiamo meravigliarci se il Signore ha detto a colui che voleva seguirlo di non c'è senso di odiare la propria anima cioè odiare la propria volontà che genera queste brutte cose in continuazione e che colui che amava la propria anima l'avrebbe perduta intendi la propria anima la propria volontà cioè tu ti perderai se e nella misura in cui vorrai fare quello che vuoi tu e seguire la tua volontà ricordate sempre che il motto del fondatore del satanismo contemporaneo è fa quello che vuoi senza ama davanti Sant'Agostino diceva ama e fa quel che vuoi d'accordo? fa quel che vuoi Alester Crowley il fondatore del satanismo cioè vuoi perderti eternamente bene segui la tua volontà qualunque cosa voglia vuoi salvarti eternamente non seguirla mai non debitargli neanche un alito di respiro alla tua volontà propria mai e questo è quello che avrebbe esplicitato Gesù nella rivelazione sulla divina volontà questa infinita sapienza non dà ordini senza un motivo cioè se Gesù dice chi ama la propria anima la perde e chi odia la propria anima la salva cioè chi ama la propria volontà va all'inferno e chi odia la propria volontà avrà la salvezza questa infinita sapienza non dà ordini senza motivo cioè Gesù non parla a vanvera o chiacchiera come facciamo noi che stiamo sempre a chiacchierare a vanvera d'accordo Gesù se dice una cosa sa quello che dice quindi se ci ordina di odiare noi stessi è perché siamo grandemente degni di odio uno dei primi frutti della conoscenza delle verità sulla divina volontà è che uno comincia ad avere proprio la nausea la nausea quasi si irrita ogni volta che vede la propria volontà che vuole in qualche modo fare le testa proprie questo a mio avviso è uno dei primi frutti che uno sta cominciando ad entrare in questo regno come ti senti in relazione alle manifestazioni della tua volontà vi faccio un esempio voi sapete che noi portiamo negli esempi la nostra vita noi siamo stati la settimana scorsa un piccolo pellegrinaggio l'ho già accennato parrocchiale ma sapete che ogni volta che uno vuole in un pellegrinaggio ci sono tante piccole tanti piccoli inconvenienti tante piccole cose ritardi situazioni di traffico mancano i soldi per pagare cose come dire com'è l'autista com'è l'autista guida bene guida male cioè allora anche in queste piccolissime cose allora una persona che viene di una volontà sta lì abbiamo fatto tardi abbiamo fatto tardi abbiamo trovato chiuso quel posto pazienza l'autista guida male meglio ma fa sta male meglio offre una piccola sofferenza al signore cioè sta in stato di abbandono una persona che viene di volontà propria se lamentate questo se lamentate quell'altro salga gli occhi al cielo guarda quello che è cafone e arriva tardi a Pullman e tutti quanti stavano aspettando lui tutte cose vere ma sono tutte quante manifestazioni di volontà propria uno che vi è abbandonato alla divina volontà e che se prende tutto quello che il signore gli manda così com'è c'è la pace dei sensi buonanotte d'accordo se prende quello che il signore vi mette davanti senza alterarsi quindi non è che quando pensiamo a volontà propria volontà umana volontatina dobbiamo andare a pensare chissà che che chissà che cosa cioè la nostra giornata la nostra vita è fatta di tante piccole cose ed è lì che vive la nostra volontà ed è lì che muore la nostra volontà capite quindi San Luigi conclude nulla di più degno d'amore che Dio nulla di più degno di odio che noi stessi chiaro qual è la cosa da odiare più di tutti nel pianeta terra noi stessi noi stessi la tua volontà più del demonio a pari merito d'accordo a pari merito ancora per vuotarci di noi stessi dobbiamo morire ogni giorno a noi stessi bisogna cioè rinunciare alle operazioni delle potenze dell'anima e dei sensi del corpo dobbiamo vedere come se non vedessimo ascoltare come se non ascoltassimo usare le cose di questo mondo come se non lo usassimo qui sta parafrasando un passo di San Paolo è ciò che San Paolo chiama morire ogni giorno ogni giorno io affronto la morte è ciò che Gesù dice se il chicco di grano è caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto se non moriamo a noi stessi uguale se non facciamo morire la nostra volontà umana umana e propria le nostre devozioni più santi se le nostre devozioni più santi non ci conducono a questa morte necessaria e feconda non porteremo frutto le nostre devozioni rimanano inutili a voglia di rosari a voglia da messa scalda il banco e a mangiare le particole consacrate capite questo è un modo un pochino crudo per esprimere le comunioni fatte superficialmente malamente che non cambiano niente nell'anima cioè tu non stai facendo comunione con Gesù se non fai la comunione fatta santamente purtroppo ingerisci una particola consacrata cioè veramente il corpo di Cristo d'accordo ma senza che questo produca frutti non perché non ha virtù in se stesso di farli ma perché tu lo ricevi malamente non con buone disposizioni le nostre opere di giustizia saranno macchiate dall'amor proprio e dalla nostra volontà e così Dio rifiuterà i più grandi sacrifici e le azioni migliori che noi possiamo compiere tutte le cose che Gesù dice negli scritti no? io le opere umane ma non le voglio non le prendo cioè io prendo soltanto le opere che sono unite alla mia volontà perché solo quelle sono degne di me adesso San Luigi ancora non ci è arrivato d'accordo? a questo livello la cosa dice San Luigi adesso smetto di leggere e faccio una sintesi perché sta finendo l'ora qual è il rimedio per questa nostra imperfezione ontologica? non ci possiamo fare niente perché quando saremo purificati completamente queste cose cesseranno ma qui in terra non lo siamo allora noi cediamo tutte le nostre opere alla Madonna fare tutte le cose per mezzo di Maria quindi ci uniamo alle sue intenzioni rinuncio a me stesso e mi dono tutto a te l'esercizio che si fa perché? perché Maria prenda questa azione imperfetta d'accordo? presa questa azione imperfetta la Madonna prende l'azione imperfetta la unisce alle sue intenzioni quindi sarebbe come se tu prendessi una mela marcia e la Madonna con il coltello toglie tutta quanta la parte marcia quindi tira fuori quella parte diciamo sana che è solo lei che fa fare questa operazione e la presenta al Signore in modo tale che tu non presenti a Dio un frutto marcio d'accordo? presenti a Dio un frutto mangiabile e quindi Dio gradisce questa azione purificata dal cuore immacologo di Maria e dalla purezza assoluta delle sue intenzioni perché lei tutto questo non ce l'aveva la Madonna quando agiva agiva unita alle intenzioni di Gesù con le stesse intenzioni di Gesù che sono le stesse intenzioni di chi vive nella divina volontà la massima gloria di Dio la salvezza delle anime e la riparazione dei peccati quindi questo è un atto di profondissima umiltà e di presa d'atto di chi sei allora capite come questo è propedeutico perché questo ancora non basta e qui torniamo alla divina volontà perché se io prendo le mie azioni e le offro alla Madonna e le offro a Dio attraverso la Madonna cosa succede? succede tornando all'argomento della scorsa settimana che io offro a Dio un atto umano purificato quindi buono quindi buono e non più imperfetto ma è sempre un atto di un uomo di un ente finito quindi è un atto piccolo un atto limitato se invece io oltre a questa operazione imparo a prendere le mie azioni così purificate e le unisco alla divina volontà offro al Signore un atto divino un atto divino cioè eterno infinito ed immenso ed è l'unico che dì a Dio tutta la gloria che egli merita cioè gloria infinita allora che cos'era un atto divino? allora concludo leggendo un umbrano dagli scritti di Luisa al volume 18 28 gennaio 1926 dove Gesù spiega come erano gli atti di Adamo prima che cadesse nei guai stavo pensando al volere divino e pensavo tra me come può essere che Adamo dopo il peccato avendo rotto la sua volontà con quella di Dio perdette la forza il dominio e i suoi atti non erano così accetti a Dio da formargli la sua edilizia mentre Adamo prima di peccare aveva fatto i suoi atti verso Dio li aveva imparati e perché ripetendoli dopo non suonavano con lo stesso suono non più contenevano la pienezza dell'amore divino e della completa gloria di Dio ora mentre ciò pensavo il mio amabile Gesù si è mosso nel mio interno e con una luce che mi mandava mi ha detto figlia mia prima di tutto Adamo prima che si sottraesse dalla mia volontà era mio figlio aveva per centro della sua vita e di tutti i suoi atti la mia volontà centro della vita e di tutti i suoi atti quindi possedeva una forza un dominio un'attrattiva tutta divina onde il suo respiro anche il respiro il palpito suo sapete cos'è il palpito? il battito del cuore e i suoi atti davano di divino tutto il suo essere emanava un profumo celeste che tutti ci attirava a sé sicché attenzione qui è Dio che parla ci sentivamo feriti da tutte le parti da questo figlio se respirava se parlava se operava le cose più innocenti indifferenti e naturali erano ferite d'amore per noi e noi divertendoci con lui guardate queste immagini stupende lo colmavamo sempre più dei nostri beni perché tutto ciò che faceva usciva da un solo punto qual era la nostra volontà perciò tutto ci piaceva e non trovevamo nulla in che dispiacerci ragazzi questa è tanta roba questa qui ora dopo il peccato ora dopo il peccato Adamo scese dallo stato di figlio allo stato di serbo si ridusse allo stato di serbo e come la ruppe con la volontà suprema così uscì da lui fuori la forza divina il dominio l'attrattiva e il profumo celeste guardate che bello io la chiamo la puzza dell'umana volontà quella di cui adesso Gesù parla perciò non più davano di divino gli atti suoi il suo essere ma si riempì di una sensazione umana per cui facendogli perdere l'attrattiva noi non ci sentiamo più periti le cose umane sono brutte sono piccole sono piccine anzi ci mettevamo a distanza lui da noi e noi da lui dice nulla che lui ripetesse gli stessi atti che faceva prima di peccare come di fatti li faceva ma sai tu che cosa sono gli atti della creatura senza la pienezza della nostra volontà attenzione sono come quei cibi senza condimenti e senza sostanza che invece di gustare disgustano il palato umano e così disgustano il palato divino cioè se tu fai una vietanza scondita non ci metti in sale non ci metti in po' d'olio c'è una mervenidenza una mortificazione non ci stai nessun gusto penso che nessuno sia contento quando fa le diete le diete se uno fosse capace di nobilitarle come atti di mortificazione si diventerebbe santi insomma perché la dieta ti fa venire volta a stomaco che tu stai a mangiare roba che non sa di niente d'accordo sono come quei frutti non maturi che non hanno né dolcezza né sapore sono come quei fiori senza profumo sono come quei vasi pieni ma di roba vecchia fragili stracciati tutto ciò può servire ad una stretta necessità dell'uomo ed anche ad un'ombra ad una sfumatura della gloria di Dio ma non certo alla felicità e a tutto il benessere della creatura e alla pienezza della gloria di Dio ora invece con quale gusto non si mangia un cibo ben condito e sostanzioso e come rafforza tutta la persona bel piatto le spaghetti e le vongole uno che sta a dieta comincia ad andare in estasi capite il sole profumo del condimento stuzzica l'appetito della vita di mangiarlo così Adamo prima di peccare condiva tutti i suoi atti con la sostanza della nostra volontà e quindi stuzzicava l'appetito del nostro amore a prendere tutti i suoi atti come il cibo più gradito per noi e noi di ricambi gli davamo il nostro cibo predipato della nostra volontà ma dopo il peccato poveretto perdette la via diritta di comunicazione col suo creatore non regnava più in lui il puro amore l'amore fu diviso dal timore dalla paura e non avendo più l'assoluto dominio della suprema volontà i suoi atti di prima non avevano più di quel valore infatti dopo fatti dopo il peccato molto più che tutta la creazione compreso anche l'uomo uscita all'eterno creatore come fonte di vita nella quale doveva conservarsi solo con la vita della divina volontà tutto doveva essere basato su di essa e questa base del divino volere doveva conservare tutte le cose belle e nobili come erano uscite da Dio come di fatti tutte le cose create quali furono creati tali sono nessuno ha perduto nulla della loro origine solo l'uomo perdette la vita la base e perciò perdette la sua nobiltà la forza la somiglianza col suo creatore ma con tutto ciò la mia volontà non lasciò del tutto l'uomo e non potendo essergli più fonte di vita e base che lo sosteneva perché lui stesso si era sottratto ad essa si offrì come medicina per fare che non perisse del tutto sicché la mia volontà è medicina è sanità è conservazione è cibo è vita è pienezza della più alta santità pienezza della più alta santità attenzione a seconda che la creatura la voglia essa si offre quindi abbiamo compreso e concludo come la volontà umana di per se stessa sia refrattaria alla divina e come la consagrazione totus tuus sia propedeutica alla vita nella divina volontà sotto due punti di vista con la catechesi di oggi primo perché la consagrazione totus tuus presuppone una scelta risoluta di camminare verso la santità senza se e senza ma imitando in particolare le virtù di Maria e assoggettandosi senza condizioni a tutti i suoi voleri che vengono conosciuti e assoggettarsi ai voleri della Madonna è ipso facto assoggettarsi ai voleri della divina volontà perché la Madonna è fusa in perpetuo con essa secondo è propedeutica perché ci consente di purificare anche quelle opere buone che noi compiamo perché siano pronte e meglio disponibili ad essere fuse con la divina volontà per essere trasformate da atti umani in atti divini e reinnescare quel processo che fa innamorare perfino un altissimo e che produce immensi benefici in noi e intorno a noi la prossima volta a Dio piacendo andremo avanti probabilmente cercando di vedere i modi con cui ci si fonde termine tecnico con la divina volontà una santa settimana a tutti la mia benedizione Ave Maria la mia benedizione Grazie a tutti